Presidente, intanto la dottoressa Cartabia è stata lenta Presidente della Corte Costituzionale, una donna, un bardo. Una grande soddisfazione, una persona che conosco, che stimo molto, è anche parzialmente la resina, sicuramente lombarda, per cui un motivo di doppia soddisfazione, la prima donna della Corte Costituzionale, direi bene, perché si iniziano ad abbattere un po' di quegli steccati che non dovrebbero esistere, ma che purtroppo esistono. Credo che la sua nomina abbia un valore simbolico anche in questo senso, è una persona di grandissima qualità, quindi sarà un altro lavoro. Invece l'assessore Bruno Galli, indagato, come commenta questo fatto? Non commento la massima fiducia e stima nei confronti dell'assessore Galli, sono assolutamente convinto che chiarirà la sua posizione, fiducia all'assessore, fiducia ai magistrati e tra l'altro.